Bisogna dare un governo al Paese, il Paese ha scelto il centrodestra, lo tsunami grillino paralizza il Parlamento perché lo priva di una maggioranza, ma la scelta politica degli italiani è stata chiara per il centrodestra, quindi quando leggo che Di Maio vuole fare le consultazioni mi fa piacere perché il successo lo ha reso socievole, ma il governo lo farà il centrodestra. Lei alla vigilia di queste elezioni aveva detto che è una sfida tra il centrodestra e il Movimento 5 Stelle, Ma si aspettava un risultato così da parte dei pentastellati? Sì, onestamente sì e sono lieto di essere venuto qui perché sapevo che era l'epicentro del terremoto. Sono stato mandato in Abruzzo, adesso posso dirlo, da Berlusconi perché voleva uno speaker che dicesse chiaro all'Abruzzo che aveva scelto il 5 Stelle che c'era un'alternativa ed eravamo noi. Ce l'ho fatta solo in parte perché non credo che abbiamo avuto il risultato che ci aspettavamo. L'unica soddisfazione è che come tutti i terremoti nell'epicentro hanno fatto meno guasti perché qui due collegi sono stati presi, in campagna nessuno. In Abruzzo tra qualche tempo ci saranno le elezioni regionali. Il centrodestra è pronto per tornare a governare anche in regione? Certo perché i voti del centrodestra ci sono e si sono visti tutti. C'è dolore per l'esclusione dell'Apelino, voglio dirlo subito. È una ingiustizia di una legge elettorale sbagliata perché tecnicamente con i voti dell'Apelino si è eletto un rappresentante nel collegio emiliano. Tornando all'Abruzzo, con i voti che abbiamo, siamo in corsa per le regionali e siccome l'esperienza dice che il voto grillino è uno scatto di nervi che passa subito, sono convinto anche che ce la potremo fare nell'interesse dell'Abruzzo.